Renato Ricci, Presidente onorario del trofeo Matteotti, 76 edizioni, tra non molto festeggeremo gli 80 anni, insomma è ormai una classica assoluta nel panorama nazionale? Credo di sì, io ho lasciato il Matteotti in prima persona e sapevo a chi lasciavo, perché Sebastiani e Stefano Giuliani sono due persone che sono molto innamorate del ciclismo, quindi non potevo fallire, non potevo sbagliare, ci ho messo un po' di tempo, però sono sicuro di aver trovato le persone giuste. 80 anni, sì, è chiaro che uno programma sempre il futuro, come programmamo il cinquantesimo, che vinse Bugno, fu il primo trofeo Matteotti che feci in prima persona. Adesso gli anni passano, 80, vabbè speriamo, tutto bene, sì. Tanti bei ricordi, tanti campioni al traguardo sull'arrivo di Viale Bovio. Quest'anno, tra l'altro, c'è la presenza di squadre importanti della World Tour e Professional. Sicuramente sarà un bellissimo Matteotti, ma lo è stato sempre, anche quando ci sono stati degli anni un po' leggeri, e tu lo sai, però c'era sempre tanto entusiasmo, anche se il parterre non era molto importante.